musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo un botto di roba nuovissima interessantissima da vedere per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite abbiamo anche un video esclusivo di un mega glitch scoperto da un utente che ci fa vedere ragazzi una roba allucinante nel video di oggi ragazzi parleremo delle uova di dragoli abbiamo già viste nel video di ieri ma oggi approfondiremo con tutte le notizie che sono arrivate si parlerà ovviamente delle nuovissime skin in arrivo per il 24 o 25 dicembre e ovviamente vedremo un sacco di leaks che vi permetteranno di sbirciare un pochettino nel futuro di fortnite ma prima ragazzi mi raccomando ve lo ricordo sempre un bel pollicione in su se vi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità di fortnite ma ragazzi la domanda io lo so che voi vi piace la domanda mi rispondete sempre nei commenti io li leggo vi metto i cuoricini la domanda di oggi ragazzi è molto molto semplice cosa ne pensate di queste benedette uova di drago che sono state scoperte secondo voi è una roba intelligente è una figata che ci sono i draghi è una minchiata che ci sono i draghi insomma tutto quello che vi viene in mente ragazzi qua sotto nei commenti mi raccomando di scriverlo in modo che io lo possa leggere e allora ragazzi non voglio allontanarmi dall'argomento delle uova e voglio subito farvi vedere un video di un glitch che è stato scoperto guardate un po ragazzi qua siamo sotto al castello guardate qua oh mio dio ragazzi ci sono delle uova nella parte ancora ghiacciata del castello come sapete ragazzi il cubo di ghiaccio si suddivide in varie fasi lo scioglimento del cubo di ghiaccio si suddivide in varie fasi e appena entreremo nella fase numero 3 che sembrerebbe essere l'ultima sotto nelle nelle stanze sotterranee troveremo ragazzi queste 5 uova e se le guardiamo bene bene in mezzo c'è proprio un cucciolo di drago che sta nascendo ragazzi quindi una roba veramente veramente incredibile come già dicevo non è facile per un gioco come fortnite tenere sempre vivo l'interesse da parte dei suoi giocatori le uova di drago ragazzi sono sicuramente una cosa fatta per quello andremo ovviamente a vedere più nel dettaglio nei prossimi giorni ma noi proseguiamo andiamo avanti ragazzi ieri ve l'avevo fatto vedere molto velocemente oggi invece ve lo presento nella sua forma completa eccolo qua ragazzi per tutti voi che raggiungerete il livello 100 stagionale non del pass battaglia otterrete ragazzi questo spray se vedete le mie live vedete quello che ho io che è della stagione precedente la prima season in cui lo hanno inserito probabilmente insieme allo spray troverete anche l'emote quella che alza il numero 100 e lo standardo per il nostro battle royale ma proseguiamo ragazzi proseguiamo andiamo avanti e parliamo ragazzi sbronk della nuovissima arma che è stata scoperta nei file di gioco del battle royale io credo non sono ragazzi un grande giocatore di salva al mondo ma mi sembra che quest'arma l'avevo già vista in save the world sono abbastanza sicuro che c'era anche in in save the world che arma è questa ragazzi questa non è altro che un uzi loro la chiamano machine pistol allora l'uzi dovete sapere ragazzi c'è in tutti i videogiochi è dispara tutto ovviamente ambientati nella realtà è presente un uzi è la mitragliatrice più veloce in assoluto si usa con una mano sola e riesce a fulminarti una cosa come tipo 50 colpi in tre secondi io lo ricordo in battlefield era veramente fortissimo viene recuperato invece da pochissimo nei file del battle royale quindi ragazzi una volta che scopriamo le armi nei codici generalmente dopo qualche giorno viene presentata ufficialmente la notizia potrebbe essere ragazzi una nuova arma che entrerà a far parte nella prossima patch che vi posso già dire ragazzi sarà la patch 7.2 non ci saranno né 7.1.1 se ne sappiamo di già che sarà nella patch 7.2 staremo ovviamente tutti a vedere perché almeno per quello che mi riguarda io rimpiango moltissimo la mitraglietta tattica che ho avuto il piacere di rigiocare in quel giorno in cui hanno messo la modalità classica ma parliamo ragazzi invece delle skin quelle insomma che sono state svelate io ve ne avevo parlato già una settimana fa abbondante adesso ragazzi sono invece eccole qua belle presenti belle fresche ragazzi è un set è un set completo che verrà rilasciato si dice il 24 dicembre o il 25 comunque uno di quei due giorni e come vedete comprenderà tutte e tre le varianti invernali delle skin già conosciute il ranger dell'amore il cavaliere rosso e il raven insieme a tre backpack quindi ragazzi le ali congelate lo scudo congelato e il backpack di raven che non si sa bene che cos'è tra l'altro ragazzi guardate un po' ci sono già dei leaks che ci fanno vedere saranno ovviamente tutte di rarità leggendaria sia le skin che i backpack e possiamo già vedere il nuovo incursore dal naso rosso con le ali del ghiaccio tra l'altro ragazzi è apparso un bug vediamo se riusciamo a vederlo no non lo riusciamo a vedere va bene le abbiamo viste parliamo allora ancora ragazzi perché c'era un bug di un utente su mobile che le ha viste nello shop ma non ce ne frega niente parliamo ragazzi invece del nuovo consumabile che è stato trovato nei file di gioco e come vedete ragazzi è proprio sì è una carota è una carota ragazzi si chiama ovviamente carrot avevamo già visto però ragazzi nei consumabili anche un po' di tempo fa quando ancora c'era il boschetto bisunto i famosi paninazzi e le bibite che per il momento non sono ancora state rilasciate questa carota ragazzi è apparsa da qualche giorno nei code nei file dove sono inseriti tutti i consumabili quindi le mele ci sono ancora le pietro scure anche se non sono più utilizzate e i funghetti non sappiamo né la sua funzionalità non sappiamo se magari andrà a sostituire i funghi non sappiamo nulla ragazzi io ve lo faccio vedere ovviamente per informarvi se a voi viene in mente quale potrebbe essere la funzione di una barca rotona fatemelo sapere ragazzi qua sotto ovviamente nei commenti ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di un tweet interessantissimo che ha rilasciato donald mustard oramai ragazzi ne parliamo sempre più spesso di questo signor ozzo che è il capoccia se non ricordo male del team grafico di fortnite quindi in poche parole quello che coordina i disegnatori che ci propongono tutto quello ovviamente che vediamo sulla mappa donald mustard bello felice bello allegro era probabilmente a farsi un giro come vedete in un mare azzurro meraviglioso e mi twitter questa roba e quando io ho visto questi salti io ho pensato che ci potesse essere una buona idea da inserire forse nella season 9 ragazzi la season 8 è già finita lo sappiamo quando inizia una nuova season generalmente il team di epic games è già arrivato alla fine della season successiva quindi ragazzi stanno già probabilmente iniziando i preparativi per la season 9 e qua da questa immagine ragazzi voi cosa pensate che possa aver visto il nostro signor mustard io penso sinceramente che non è tanto importante quello che vediamo là sulla roccia ma secondo me loro stanno pensando alle moto d'acqua io credo che uno dei prossimi aggiornamenti che potrebbe esserci su fortnite se se la sentiranno di farlo è inserire un paio di isole separate raggiungibili a nuoto o meglio dare la possibilità ai personaggi di nuotare cosa che è stata resa possibile ricordo anche i tempi di rules of survival prima non si poteva e poi invece gli si è data la possibilità di nuotare ovviamente ragazzi più di così non so beh ragazzi direi che tutti i leaks anche oggi ve li ho detto voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato anche oggi il video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao